Voga 2015. Che cosa ho imparato? Sino ad ora, aiuto, ho imparato che non è il caso di cercare di registrare un video facendo il morto col mare mosso. Intanto non so se dietro di me si vede c'è l'isola delle correnti, è un mare piuttosto mosso, quindi l'argomento di oggi è cosa ho imparato sino ad ora che siamo a metà strada. Ho imparato che fare il morto nel mare mosso e cercare di registrare il video è una cosa massacrante. Aiuto! Mamma mia! Guardate che razza di onde! La GoPro! Perché nessuno mi ha detto che l'acqua di mare è salata? Così salata! Cos'è imparato? Cos'è ci faccio un video extra? Tutti i tentativi di girare il Voga in acqua? Si era calato il vento, accendo la GoPro e naturalmente si alza di nuovo il vento e le onde. Sono Grizzly, sono a Marzamemi, lì dietro c'è l'isola delle correnti, non so se si vede, lì c'è la spiaggia di Morghella e io sto cercando di registrare un video mentre faccio il morto in una giornata puntosa. Voga 2015, giorno 15! Buon ferragosto a tutti! Wow! E quella del... ma... porca miseria! Devo fare il video! C'è vento, ci sono onde, ci sono alghe, c'è di tutto! Dai che ci riproviamo dopo quest'onda! Per cui come viene? Viene! Aiuto! Dolfer Agosto a tutti! Mi son bevuto tanta di quella... appunto! L'argomento di oggi... Voga 2015! Giorno 15! Wow!